è una notturna questa qua anche se sono le 10 della mattina guarda la bastarda che quasi miciula guarda la bastarda guarda la bastarda è una giornaliera notturna durante il lockdown me ne sono quasi guardate tutti con il video ma sai le visite che c'erano su per forza e perlomeno faccio un po' di tempo è un po' di tempo è un po' di tempo è un po' di tempo salve grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti